Un normale controllo fiscale si trasforma in un'operazione antidroga. Succede a Montagnana, dove gli uomini della Guardia di Finanza di Este stavano per iniziare l'ispezione e si sono trovati di fronte a due cappannoni pieni di materiale, macchinari in disuso e automezzi dismessi. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno quindi iniziato a cercare documenti, ma non hanno trovato quello che cercavano, bensì mezzo chilo di aschis e marijuana. Un finanziere infatti durante l'ispezione ha notato una borsa nascosta nella poppa di una piccola imbarcazione a remi contenente quattro panetti da 100 grammi di aschis. A quel punto è scattato il controllo con l'ausilio del cane antidroga, che ha permesso di trovare ulteriori 100 grammi di droga, oltre a due bilancini di precisione e strumenti per tagliare lo stupefacente. Il titolare della ditta è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Grazie a tutti.